Buongiorno a tutti e benvenuti, vedo numerosi, di questo siamo molto contenti, al primo workshop dedicato alla comunicazione per quanto riguarda il programma nella programmazione appunto 2021-2027. Come sapete il programma Interreg 6A Italia Slovenia 2021-2027 è stato approvato a inizio agosto e il comitato di sorveglianza del programma nella sua prima seduta del 20 settembre ha ufficialmente approvato la visual identity, ovvero le linee guida del coordinato d'immagine del programma e quindi anche dei progetti da esso finanziati e oltre a questo ovviamente il comitato ha preso altre decisioni che tra le quali appunto approvare anche la documentazione di un progetto di rilevanza strategica il progetto Adrian Cycle Tour ma avviare le procedure per anche gli altri due progetti di rilevanza strategica previsti dal programma Interreg ovvero Carco Carso, Crass 2, Poseidone quindi c'è all'autorità di gestione all'autorità di gestione ha ritenuto opportuno organizzare questo primo incontro per dare indicazioni quanto più precise non solo ai progetti strategici previsti dal programma ma anche ai progetti che saranno finanziati nell'ambito del bando di capitalizzazione lanciato il 24 ottobre scorso proprio per dare la possibilità ai progettisti appunto di preparare la proposta progettuale in maniera quanto più opportuna dal punto di vista delle spese per la comunicazione in ottemperanza quelle che sono le regole europee declinate nella visual identity cioè nelle linee guida dell'identità visiva del programma e dei progetti prima di procedere ovviamente lascio la parola alla dottoressa Laura Comelli che è l'autorità di gestione del programma prego dottoressa Comelli Buongiorno a tutti è sempre un piacere poter introdurre questi eventi che vengono organizzati nell'ambito dei nostri programmi di cooperazione integra tra Italia e Slovenia questo è il terzo evento in realtà o il quarto o addirittura il quinto che sono stati organizzati dall'approvazione del programma fino ad oggi la parte della comunicazione lo sapete è un elemento estremamente importante per la Commissione europea è ricaduta per tutti i programmi in quanto è necessario far sapere ai cittadini qual è l'utilizzo dei fondi europei negli spazi territoriali dedicati ma c'è dell'altro c'è la voglia di riunire sotto un unico brand questo è già accaduto nella programmazione in fase di chiusura il brand Interreg tutti gli interventi di cooperazione territoriale europea che vengono finanziati nei settenni di programmazione comunitaria sono ben 87 i programmi Interreg nel nostro spazio europeo e tutti riconoscibili con lo stesso brand in questa programmazione 21-27 ci sono stati sicuramente degli affinamenti rispetto alla visual identity identificazioni probabilmente più chiare per i beneficiari ma anche per gli operatori Interreg come noi ed è importante apprendere queste informazioni e mettere in pratica questi elementi cognitivi sin dai primi passi progettuali la comunicazione non può quindi essere relegata a un adempimento, a un mero adempimento ma deve permeare l'attività dei progetti dall'avvio fino alla loro conclusione e anche oltre l'evento di oggi è un evento estremamente tecnico volto a dare illustrazione dei contenuti della nuova visual identity ma non solo ci sono anche ricadute in termini gestionali di cui verrete adeguatamente informati un appello a tutti voi quello di relazionarvi con le strutture di gestione anche per il tema della visual identity in modo proattivo e non alla conclusione magari di una procedura di acquisto o dell'avvio di attività di comunicazione che magari rischiano di non essere in linea poi con quella che è la visual identity del programma io termino qui perché l'evento è piuttosto denso di contenuti quindi grazie ancora ai colleghi che hanno curato l'organizzazione vi auguro un buon workshop e un caro saluto a tutti grazie grazie l'autorità di gestione per aver presenziato ecco questo questo evento lascio quindi la parola alla collega Claudia Ferluga Communication Officer del Segretariato Congiunto per un ice breaking poll quindi un sondaggio prego Claudia buongiorno buongiorno a tutti sono claudia ferluga probabilmente molti di voi mi conoscono già alcuni forse no sono il communication officer del js italia slovenia e prima di iniziare con i contenuti volevamo in qualche modo un po rompere il ghiaccio con voi invitandovi a diciamo così ad entrare sul sito www.cahout.it come vedete sullo schermo spero che voi state vedendo inserire il gioco del pin e cioè il pin del gioco e in qualche modo giocare con noi per vedere un po quali sono gli errori che o comunque le regole che noi vorremmo che seguiste rispetto alla visual identity voi come come beneficiari insomma di futuri progetti oppure di progetti già in corso produrrete dei gadget dei materiali e su questi materiali dovrete apporre il nostro logo e questi materiali dovranno seguire delle regole della nostra identità visiva e spesso si possono fare degli errori oppure non è chiaro perché i gadget sono di svariate forme tipologie e quindi noi vi invitiamo sempre a condividere con noi queste questi materiali affinché si possa scegliere la via giusta insomma quella più idonea nell'arco di questa giornata infatti vi spiegheremo nel dettaglio quali sono le regole vi spiegheremo anche vi daremo degli esempi di possibili utilizzi del logo e parleremo anche dell'ammissibilità delle spese sulla comunicazione però insomma per se volete insomma potete intanto vedere qual è il vostro livello di conoscenza di utilizzo della nostra visual identity vediamo intanto inizio vediamo chi può dare risposta allora ci sono delle semplici domande e vi chiedo di rispondere tramite il vostro cellulare o al computer come vi è più comodo la prima domanda è su quale borsa è stato utilizzato il logo corretto quindi qui avete tre tipologie di utilizzo del logo nell'immagine sopra e anche nelle immagini piccole dovreste dirmi qual è la borsetta che ha utilizzato il logo corretto quella rosa quella in arancio o quella rossa per quella o bene avete risposto correttamente perché come potete vedere il logo è su sfondo bianco il logo non può essere utilizzato ve lo spiegheremo dopo in modalità trasparenza a meno che non ci sia uno sfondo a punto bianco o molto molto chiaro e quindi la borsetta corretta è la quella in arancione bene andiamo avanti vediamo che in prima in classifica ss qui si c'è anche la classifica chi risponde correttamente e più velocemente andiamo avanti dov'è il logo dove il logo di progetto è stato posizionato correttamente in quale di questi tre esempi di chiavetta usb è stato utilizzato il logo in modo corretto nella prima rossa quella azzurra o in quella gialla vediamo se indovinate abbiamo la chiavetta usb quindi un materiale molto piccolo o bravi bene mi fa piacere sì la prima è quella corretta perché nella nella seconda in quella azzurra il logo è assolutamente stato storpiato quindi diviso e poi riassemblato nelle sue parti questo non deve assolutamente essere fatto in quello sotto invece quello giallo l'errore è il sono i margini no è stato tagliato il logo all'interno c'è per farlo stare più grande sulla usb però il logo deve essere deve avere sempre un contorno di una certa grandezza di cui vi spiegheremo dopo i dettagli vediamo chi è stato più veloce a pao più veloce ss passato in terza posizione andiamo avanti il pannello è in linea con le regole dell'identità visiva adesso vi facciamo vedere il pannello come potete vedere questo un pannello è stato messo il logo in alto a sinistra sono tutti gli elementi insomma hanno messo il sito però è giusto o è sbagliato questa non è semplice vediamo se pari 50 e 50 no non è corretto il motivo per cui il pannello non è corretto è che il logo deve prendere almeno un quarto della grandezza di un pannello quindi deve essere molto molto grande anche di questo parleremo dopo quindi l'idea della commissione europea è quella di cercare di rendere più visibile possibile la bandiera europea il logo dei programmi vediamo com'è andata sempre pao il più veloce bene bene qualcuno sale in classifica qualcuno scende continuiamo è un gioco ovviamente abbiamo l'ultima domanda dove i loghi dei partner sono della grandezza corretta qui abbiamo messo un esempio di un'agenda di un evento dovreste dirci quale delle due corretta come vedete abbiamo il logo del progetto l'acronimo e i loghi degli altri partner però appunto quali sono della grandezza corretta quelli della grandezza corretto sono del pannello a sinistra cioè quello con il triangolo in rosso perché i loghi che si affiancano al logo di progetto non devono essere più alti della bandiera europea questa è una regola che c'era già nella precedente programmazione e che la commissione continua a chiedere che sia rispettata vediamo adesso com'è finita e perché è arrivato il podio al terzo posto sarà complimenti al secondo posto barbara e il primo posto va a lori quindi diverso da quello che si pensava bene vi ringrazio tantissimo per aver giocato con noi complimenti in realtà era solo una scusa per insomma in qualche modo farvi capire che prima di preparare un qualsiasi prodotto o qualsiasi gadget o evento dovete assolutamente seguire la visual contattarci fare attenzione all'utilizzo del logo e oggi appunto stiamo registrando e vi daremo le indicazioni potrete riascoltarle e le troverete sul sito grazie della della collaborazione grazie claudia spero che vi siete in qualche modo divertiti imparando alcune alcuni ecco con cui suggerimenti anche di claudia soprattutto relativamente alla l'importanza di strutturale strutturare prima e in maniera quasi strategica la comunicazione sette senza attendere l'ultimo giorno prima della della produzione del gadget o insomma del materiale promozionale per chiedere informazioni questo da modo al segretariato congiunto di organizzarsi anche per rispondere correttamente in tempo alle vostre richieste e a voi di evitare spiacevoli inconvenienti dovuti anche al taglio delle spese quindi siamo perfettamente in tempo 945 per avviare la mia presentazione sulle linee guida vedo che marcella in regia già proiettato e condiviso le slide prossima slide così ecco queste queste sono le linee guida nella slide le trovate in formato bilingue perché nei prossimi giorni verranno pubblicate in italiano attualmente si trovano solo nella versione inglese licenziata dal comitato di sorveglianza comunque li trovate nella nel sito del programma www.ita-snow.eu sezione programmazione 2021-2027 documenti di programma comunque sotto questa slide in fondo c'è anche il link diretto prossima slide le eh le attuali linee guida ovviamente sono una declinazione di eh regole derivanti appunto dalla eh dall'Unione Europea in particolare i i regolamenti cardine per la comunicazione sono i regolamenti o il mila e sessanta eh qui vengono citati l'articolo ventidue coma tre ma in particolare per quello che attiene soprattutto i progetti sono l'articolo dal 46 al 50 eh sul tema della visibilità trasparenza e comunicazione vedete già che eh a questo punto la l'Unione Europea ehm ha nuovamente voluto il termine comunicazione eh si era partiti eh da una semplice eh da una semplice informazione pubblicità nel nelle programmazioni precedenti evoluta in eh comunicazione informazione nel 21-27 e i termini eh che vengono aggiunti sono visibilità e trasparenza proprio per dare evidenza della necessità di diffondere quanto più possibile eh i risultati del programma attraverso i progetti ma soprattutto l'impatto positivo che i progetti hanno sul territorio grazie grazie ovviamente al al cofinanziamento del programma e quindi all'Unione Europea. Poi c'è ovviamente il regolamento 1059 eh dedicato proprio allo interreg alla cooperazione territoriale europea. Anche in questo caso l'articolo di riferimento ecco più importante sicuramente il 36 eh che elenca quelle che sono le responsabilità sempre in termini di comunicazione, visibilità e trasparenza non solo per l'autorità da parte dell'autorità di gestione ma da parte di tutti i partner progettuali. Prossima slide. Tornando nel dettaglio il regolamento 1060 eh chiede che ogni stato membro mh coinvolto appunto nelle varie programmazioni, nei vari programmi eh dia quanto più possibile eh massima visibilità ai finanziamenti che riceve quindi ai finanziamenti erogati. Una visibilità che deve eh impattare sulla popolazione, sui cittadini, sui cittadini comuni, quindi non non solo tecnici o eh professionisti eh progettisti eh ma soprattutto la gente comune che nonostante tutte le programmazioni che si sono sosseguite eh ancora poco conoscono eh dell'interreg in particolare ma anche dei dei finanziamenti ecco e dell'accessibilità a questi finanziamenti. Per questo si chiede anche di istituire un portale unico per stato membro dove si dia evidenza di tutti quelli che sono di tutti i programmi eh che insistono nell'area in modo tale che un cittadino possa capire vivendo sulle Venezia Giulia quali sono i i i finanziamenti che vengono che ricadono sul territorio. Eh chiaramente ehm lo stato membro ovviamente crea questo sito ma vi ricordiamo che c'è per quanto riguarda l'interreg anche un sito dedicato a tutti i programmi interreg dove si manifestano appunto tutte le tutti i progetti, tutti i programmi, tutto quello che i programmi fanno eh c'è una lista dei programmi e dei vari siti dove trovare le informazioni. Altro articolo importante e lo vedremo poi perché è l'articolo quarenta sette del mille e sessanta dove si richiama l'attenzione all'utilizzo corretto dell'emblema dell'Unione Europea perché spesso eh ma non solo per il nostro programma e per i progetti che finanziamo ma anche insomma girando eh e anche insomma sul del territorio notiamo che eh quando viene apposta la bandiera europea spesso la eh viene riprodotta in maniera errata quindi eh con le stelline fucsia e magari lo sfondo nero. Quindi ripeto sono ehm eh regole che vanno assolutamente applicate e che noi cerchiamo oggi di eh spiegarvi come come noi le eh le contestualizziamo. Prossima slide prego. Grazie. Andiamo all'articolo trentasei eh del regolamento Interreg. Eh l'articolo sei coma quattro eh afferma che appunto ogni eh progetto ehm che comunque riceve i finanziamenti da un programma Interreg deve ehm lettera ma insomma poi nel dettaglio ehm potete andare tranquillamente a leggere il regolamento eh deve fornire una breve descrizione del del progetto eh su un sito su un sito e non solo una descrizione che comprenda ovviamente le finalità gli obiettivi del progetto e come e come viene ottemperato questo eh questa questa regola del del regolamento. Per quanto riguarda il programma Interreg noi continueremo a fornire ai progetti finanziati uno spazio web all'interno del nostro sito quindi ogni progetto avrà un sito dedicato che per noi è il sito ufficiale. Questo per una per varie considerazioni. La più importante è per consentire eh di accedere ai dati del progetto anche una volta chiuso il progetto. Nel passato questa cosa la ripetiamo ogni volta che facciamo un evento di comunicazione nel passato chiusi i progetti si perdevano molte delle informazioni contenuti nei siti che avevano creato perché non potevano ovviamente più pagare eh con eh il punto il fondo del progetto il eh dominio. Per questo si è pensato da una cosa che fanno anche altri programmi Interreg di ospitare anche per la ventuno ventisette i siti dei progetti né all'interno del sito ufficiale. Passiamo alla lettera B. Ehm ogni progetto deve apporre una dichiarazione che ehm ponga in evidenza il sostegno del programma in maniera visibile eh il programma in quanto fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione quindi però ovviamente materiali che riguardano il progetto e comunque materiali destinati al grande pubblico ai partecipanti degli eventi. Cosa significa questo? Significa che il logo del progetto che viene fornito da noi dal segretariato congiunto quindi attenzione non dovete eh spendere ecco soldi di progetto per creare il logo ma saremo noi come programma a fornirvi il logo nelle varie eh versioni. Quindi il logo contiene come vedremo tutte le informazioni eh obbligatorie e deve essere apposto proprio sul materiale promozionale. Lettera C. Ehm ogni progetto deve esporre targa insomma un cartelloni permanenti ehm chiaramente visibili al pubblico in cui deve comparire così dice la lettera C l'emblema dell'Unione Europea conformamente conformemente ha le disposizioni della legato nove del regolamento del 1060. Quando lo deve apporre non appena inizia l'attuazione del progetto ma di questo nel dettaglio mh ve lo spiegherà il collega Alessandro Bosco nel suo intervento eh sugli esempi di applicazione delle linee vina. Lettera D per diciamo i progetti eh che non rientrano in quella che appunto lettera C cioè con investimenti con mh installazioni mh di di attrezzature come vi ho detto sarà mio collega poi a a a spiegarvelo nel dettaglio deve essere apposto eh un poster quindi torna al poster di misura non inferiore a formato tre o anche un display elettronico che comunque reche informazioni sul progetto e con evidenza del fondo sostenti nel fondo eh quindi interreg e del finanziamento ricevuto. Prossima slide per favore. Grazie. Ecco queste regole come dicevo eh sono state mh studiate e sono state riportate nell'identità visiva del programma. un'identità visiva un coordinato di immagine che si rifà a tutto un lavoro eh di negoziazione condiviso tra i vari programmi interreghe e promosso dal programma interact. Il programma interact è un programma europeo che eh supporta i programmi interreghe nelle ehm in varie eh attività tra queste la comunicazione la capitalizzazione in un concetto in un concetto di armonizzazione eh delle diverse misure attuate che ovviamente l'autorità di gestione del programma interreghe telesovenia eh ha sposato pienamente e che concorda proprio eh volendo anche continuare l'esperienza positiva del quattordici e venti anche nell'attuale programmazione venturo ventisette. Eh il manuale, le linee guida che trovate pubblicate quindi si ispirano al cosiddetto brand design manual cioè a un manuale di coordinato di immagine interreghe proposto eh da Interact. Prossima slide. Quali sono gli obiettivi? Eh gli obiettivi di formirvi queste linee guida e non solo quindi eh il logo eh sono quelli di ehm ovviamente standardizzare ehm diciamo le procedure comunicative le strategie comunicative ovviamente ogni progetto eh troverà il suo percorso ma certamente deve avere un ehm un background un un contesto comune da cui partire insieme agli altri progetti quindi attuare in maniera coerente le regole eh di comunicazione del programma sostenere quindi supportare non solo gli partner ma ogni beneficiario in una logica dove ovviamente noi suggeriamo di individuare un responsabile della comunicazione eh cioè suggeriamo obblichiamo a eh individuare un responsabile di comunicazione per progetto in modo tale da avere eh una mh un di un dialogo costante continuativo e formativo nei confronti del partenariato ehm e poi ovviamente linee guida che spieghino non solo come è fatto il logo il perché di questo logo ma ovviamente le modalità di utilizzo. Prossima slide. Questa è un'immagine che riproponiamo sempre che molti di voi perché vede che tre partecipanti ci sono molti dei dei soggetti che eh hanno nel corso degli anni proposto ehm appunto le loro attività è un'immagine che spesso chi non è del anche del del mestiere non capisce cosa sia chi lo è eh scuote la testa dicendo ma come è possibile che abbiamo atteso così tanto per armonizzare la comunicazione visiva. Questi sono i loghi dei programmi prima dell'intervento di interact e quindi prima dell'iniziativa del di armonizzazione del brand interreg. Eh tantissimi programmi ma eh credo che pochissimi a meno che non fossero i tecnici e e progettisti riconoscessero il fatto che si trattava di programmi interreg quindi di programmi cugini ecco ehm riceventi eh la stessa tipologia di fondi. Prego la prossima slide. Questa invece è un'immagine ehm subito dopo la prima fase ecco di adesione all'iniziativa interact di armonizzazione del logo quindi già vedete che eh è riconoscibile innanzitutto il brand interreg e quindi è quasi comprensibile che eh questi programmi seppur impattando su aree diverse ehm abbiano una logica comune di intervento. Prossima slide. Ecco la nostra evoluzione eh ed è chiaro evidente eh dal punto di vista di grafico come si è passati da una programmazione dove probabilmente anche i regolamenti eh che richiedevano eh informazioni eh e quindi mh eh anche dal punto di vista grafico era difficile eh eh posizionare tutto all'interno di un'unica soluzione appunto grafica. Con la duemila quattorici duemila e venti quindi il tutto si è semplificato grazie appunto all'adesione al brand interreg e quindi all'eccezione di riportare oltre al brand il diciamo gli stati membri del programma nelle lingue eh native e riferimento al fondo per la quattorici venti riferimento che poi si è ehm trasformato nel cofinanziamento dell'Unione Europea nella ventuno ventisette. prossima slide. Ecco qui quindi il logo del programma la versione ufficiale da utilizzare eh per quanto riguarda noi eh operatori di programma è sempre eh la versione a colori bilingue qui lingue inteso con il riferimento al cofinanziamento bilinque. Chiaramente per i motivi che vedremo dopo per esigenze di programma cui anche in certi contesti la lingua di lavoro è l'inglese il eh la versione che possiamo utilizzare è anche quella appunto in con il call in inglese cioè con il la dicitura del cofinanziamento in inglese prossima slide. Questa è la definizione del logo del programma il logo del progetto. eh abbiamo deciso sempre di continuare eh l'esperienza quattorici venti quindi inserendo in maniera semplice l'acronimo l'acronimo del progetto sotto la scritta sotto il brand Interreg. Quindi mh anche questo caso la versione ufficiale che deve essere sempre al novanta nove per cento utilizzata è questa a colori eh con la striscia con l'acronimo del progetto e la striscia del colore eh rispetto all'obiettivo di appartenenza e vedremo eh di seguito come. Prossima slide. Il logo del progetto è composto da ehm ovviamente come ho detto prima il logo del programma, l'acronimo del progetto che va posizionato su un'unica striscia, il font è l'open sans perché poi vedremo eh che si è deciso di utilizzare l'open sans come diciamo scelta tipografica del programma. Ricordiamo anche il riferimento al cofinanziamento che è appunto obbligatorio e che è parte del logo. in questo caso è eh non è in aria e non è in open sans ma per un'impostazione grafica mh e quindi di scelta grafica dell'Unione Europea è in aria al volco. Comunque sono non dovete preoccuparvi perché saremo noi a fornirmi il logo. Attenzione che eh suggerimento è quello di prevedere un contorno eh libero, uno spazio libero, uno spazio libero attorno al logo che non deve appunto essere appiccicato al margine o altre immagini. Prossima slide. Questi sono i colori eh utilizzati eh quasi c'è stato spazialmente non importa. Allora eh i colori utilizzati per la scritta, per le per le sfumature del del brand interreg, il giallo per le eh per le per le stellette eccetera. Quindi comunque sono tutte le indicazioni di codici di colori che sono contenute nella nelle linee guida. Prossima slide. i colori ovviamente eh i colori eh ricalcano quelli che sono gli obiettivi e come ci vengono suggeriti eh dal manuale elaborato come proposta iniziale da Interact. Eh Interact ha associato un'icona per ogni eh obiettivo e associato anche un colore. Quindi a seconda del della diciamo del dell'asse questo caso non si parla più di asse però insomma della dell'appartenenza del progetto va dato il colore eh dell'appunto dell'icona così come strutturata e elaborata da Interact. Quindi abbiamo ehm sul Pio uno come sapete eh ma su questo so che ci sono stati c'è stato anche eh insomma il ventiquattro ottobre eh si sono insomma sono andati nei dettagli i miei colleghi sulle varie priorità e su un'Europa più competitiva con un'Europa eh più eh più verde e più sociale e una maggiore governance sul riso uno. Prossima slide. Ecco quindi l'elaborazione dei vari logotipi a seconda eh dell'appartenenza del Pio di appartenenza. quindi vedrete che come ho detto prima cambia il colore della striscia eh che fa da sfondo all'acronimo. Ed è anche un l'uno dei motivi in cui anche nel bando di capitalizzazione pubblicato si era un po' deciso di eh suggerire una un nome di un acronimo cioè l'acronimo non lunghissimo e quanto più insomma eh eh modo insomma modo tale che graficamente fosse anche ehm più 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 strategico ecco rispetto a un acronimo molto più molto lungo se che non crei che sia più chiaro che non crei confusione. Prossima slide. No non la vedo. C'è qualche problema per eh. la slide ecco ecco qui nel ecco qui che ci sono ovviamente tutti i codici codici colore che vi aiuteranno ovviamente a riprodurre correttamente i loghi ehm in base appunto mh alla tipologia di progetto e alla tipologia di ehm di materiale promozionale. prossima slide. Qui il logo di progetto che noi abbiamo utilizzato un logotipo ovviamente va eh personalizzato. Il logo del progetto è inserito in una cornice uno sfondo colorato e nell'attuale programmazione la posizione su sfondi colorati ha creato non poca confusione applicativa però la regola generale è di applicare il logo su sfondo bianco perché tutte le sue parti devono essere chiaramente visibili e leggibili. ehm la prossima slide per favore. Qui eh Interact considerati anche i nostri suggerimenti eh ha ehm deciso insomma di ascoltare ecco le esigenze dei progetti ritenendo anche eh possibile riprodurre il logo eh su sfondi colorati eh in questo caso abbiamo lo sfondo in maniera esemplificativa arancione ma ovviamente gli sfondi dovrebbero essere non potrebbero essere un fucsi acceso cioè deve essere comunque possibile eh leggere in maniera chiara non partidiosa tutti gli elementi del logo oppure su sfondo grigio. e in questo caso dobbiamo però fare attenzione per quello dicevo prima all'articolo quarantasette all'anex nove che cosa ci dice l'Unione Europea in merito alla riproduzione della eh della European flag quindi della dell'emblema dell'Unione Europea. prossima slide. Quindi è possibile riprodurre eh il logo su sfondi colorati però attenzione che se noi lo riproduciamo lo dobbiamo fare seguendo le indicazioni dei regolamenti. cosa significa? Nel caso di riproduzione del logo sul sfondo in questo caso abbiamo scelto l'arancione la scritta può essere bianca ma attenzione che l'emblema dell'Unione Europea deve essere contornato da un eh da una cornice bianca. mentre se lo sfondo è insomma anche diverso grigio si vuole fare mh colore ecco come ecco la slide precedente faceva notare grigio su sfondo grigio. la bandiera europea che si volesse riprodurre in monocromia deve essere bianca con le stellette nere oppure sfondo blu e le stellette bianche. non sono consentite altre riproduzioni questa è una cosa molto importante quindi ripeto. Scusa Sandy posso intervenire? Vai. solo per chiarire quindi che di fatto ehm è difficile avere la monocromia nel senso che ehm sì potrebbero stampare il logo nero però comunque va eh la bandiera va stampata in bianco quindi diventa bicolore e quindi è difficile avere il monocromatico. ehm quindi bisogna eh eh tenerne conto quando si preparano i budget, quando si immagina una spesa per una stampa perché la monocromia è difficilmente realizzabile, diventa colore e quindi ha un costo maggiore. esattamente ehm per questo abbiamo ritenuto di di fare questo eh questo questo incontro, questo primo evento proprio per avvisare soprattutto coloro che intendono applicare, applicare, fare eh presentare la proposta progettuale di capitalizzazione che devono bene avere in mente ehm che ehm i gadget che si vogliono acquistare devono seguire queste regole quindi attenzione e quindi prevedete le risorse necessarie considerato che potete sì riprodurre in versione tra virgolette monocromatica. io ho qua riportato il trafiletto eh presente proprio sul regolamento ma che monocromatica non è nel senso che a meno che voi non facciate una adesso ipotizzo come gadget una borsa bianca allora ci potete appiccicare eh il eh il logo questo qua sopra in versione bianco e nero ecco quindi eh oppure blu ecco blu. quindi tutto blu però attenzione lo sfondo deve essere blu e le stelline bianche. Quindi a meno che non ci siano queste cose qui eh queste due opzioni eh il resto ovviamente dovete eh ben valutare perché ripeto la bandiera deve essere può essere riprodotta solo in questi due modi oltre che colori quindi blu con le stelline gialle. bene prossima slide qui abbiamo eh ipotizzato invece una versione di logo per le targhe eh abbiamo già avuto i casi eh in precedenza dove le targhe mh appunto dove avevano necessità avete avuto necessità hanno i progetti avuto necessità di riprodurre il logo su una targa metallica e quindi si è pensato di ehm che sarebbe stato opportuno eh fornire eh fornire eh fornire ai progetti anche una versione di contorno outline del logo che potesse eh permettere la eh riproduzione del logo su eh targhe metalliche su materiali metallici prossima slide ecco ecco utilizzo errato del logo allora come abbiamo sempre detto sono le regole eh di qualsiasi logo cioè un logo non può essere storpiato allungato a piacimento girato modificato non può essere modificato nel senso non potete tagliare dei pezzi metterli in posizioni diverse eh non potete cambiare i colori ovviamente se non quelli eh autorizzati dall'autorità di gestione dalle dalle linee guida quindi interregge non può essere scritto in rosso attenzione alla riproduzione delle della come abbiamo già ripetuto della bandiera europea non può avere altri colori ripeto c'è già successo di almeno per quanto mi riguarda vedere prendo sempre il caso delle borse dove è stato riprodotto un logo logo e le le stelline erano adesso adesso fosse premesso fucsa però non di un colore diverso ehm poi non si può contornare il logo insomma regole diciamo generali di un qualsiasi logo eh valgono anche per il logo interregge ehm quindi le le fino adesso abbiamo descritto le eh le regole di come come è il logo eh e come questo va applicato in su tutti i materiali promozionali del progetto con rilevanza soprattutto esterna prossima slide ovviamente siamo ben consapevoli che i materiali sono di diverso tipo le dimensioni minime eh per cui il logo è leggibile eh sono di trentotto uno millimetri questo è ovviamente indicativo perché poi dipende anche dalla tipologia di materiale quindi ci rendiamo conto che per esempio per le penne eh il logo così di eh di eh progetto così come strutturato potrebbe avere difficile applicazione e quindi eh potrebbe essere possibile però ripeto il logo in inglese cerchiamo di evitarlo però potrebbe essere possibile in certi contesti solo se preventivamente autorizzato da segretariato utilizzare il logo con la dicitura in inglese oppure prossima slide utilizzare questi tipi di logo ehm sono loghi eh alternativi che si sviluppano in orizzontale o in verticale quello orizzontale è stato pensato per le penne per materiali come le penne però ripeto ci rendiamo conto che eh non è sempre facile appunto riprodurre con questo tipo di eh elementi grafici e di grafici e di lunghezza eh il logo correttamente su oggetti come le penne quindi cercheremo di eh valutare caso per caso oppure la seconda versione alternativa in che si sviluppa più in verticale è pensato per eh tessere o particolare in particolare eh gadget come le chiavette USB USB si tratta di si tratta di loghi alternativi attenzione per quanto riguarda dimensioni minime per quanto riguarda superfici eh stampabili ridotte quindi questi loghi sicuramente non possono andare in eh a quattro nei nei fogli a quattro non possono andare eh sul poster sulle targhe assolutamente no si tratta di eccezioni che possono essere autorizzate solo dal segretariato congiunto ok prossima slide ecco qui eh qui si ricorda eh quello quanto detto già prima ovvero la regola che in presenza di altri loghi eh questi loghi devono essere di altezza non superiore all'emblema dell'Unione Europea quindi eh nel caso voi vogliate insomma fare un invito ad un evento e in alto a sinistra ci posizionate il logo sappiate che i loghi ovunque voi vi mettiate su quella pagina del progetto del insomma sulla questa veste grafica non possono essere più alti della bandiera europea questo perché lo ripetiamo sempre deve essere dato eh data evidenza non al singolo partner ma al progetto perché il progetto di eh interazioni tra diversi soggetti quindi eh e poi appunto va data evidenza al finanziamento che viene erogato quindi al al fondo interreghe piuttosto che al singolo progetto c'è già capitato appunto purtroppo eh nel passato che il logo interreg venisse riprodotto neanche in alto a sinistra quindi in posizione rilevante ed evidente ma in basso in maniera piccolissima mentre il logo del partner che eh magari certo organizzava eh l'evento ma lo organizzava con fondi interreghe fosse in eh in in posizione preeminente soprattutto molto molto evidente eh ed era praticamente impossibile capire che il l'evento eh l'attività di comunicazione fosse stata promossa dal progetto nell'ambito di un conconenzamento dell'Unione Europea ecco su questo vi prego di fare sempre attenzione andiamo avanti qui come dicevamo dicevo all'inizio eh il carattere tipografico scelto dal programma ed è disponibile gratuitamente qui trovate anche il link per scaricarlo è open sans chiaramente non è un obbligo ma noi noi cerchiamo sempre di eh di eh insomma farvi capire che tutto quello che noi oggi eh presentiamo e proponiamo in maniera più o meno obbligatoria eh 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 è dovuto al fatto che noi vogliamo armonizzare non solo il logo ma tutta una se tutte le le attività di comunicazione questo non vuol dire che vogliamo controllare quello che voi fate ma farvi eh farvi capire che siamo parti tutte di una stessa squadra quindi è evidente che dobbiamo in qualche modo attenerci e dalle regole che sono regole di del programma ma derivanti da regolamenti europei prossima slide eh qui ehm riporto quelli che sono i canali eh di comunicazione del programma ovviamente il canale cardine è il eh sito del programma che ospiterà ripeto i siti web dei progetti come sta facendo per i progetti finanziati nel quattordici duemila e venti eh altri canali social a cui vi chiediamo di di mettere vi piace o insomma di iscrivervi soprattutto al canale YouTube dove trovate e troverete la registrazione di questo evento e oltre appunto tutti gli altri canali come appunto eh da ultimo LinkedIn appena studiuto. Bene mancano ho anticipato non so io dicevo di di fare le ehm le domande alla fine non so se vuoi aggiungere qualcosa a Claudia in merito all'applicazione del logo ma hai un intervento ad hoc. Ma sì ti ringrazio Sandy volevo solo appunto ricordare che ehm bisogna insomma ragionare molto bene anche sulla scelta dei gadget quando andate ad acquistarli eh non si può scegliere un gadget qualsiasi purtroppo bisogna ragionare sul tipo di logo che abbiamo e quindi scegliere dei gadget idonei perché per non trovarci poi che che volete fare una cosa ma che non è in qualche modo fattibile per via della particolarità dei nostri loghi. Una volta che i progetti sono finanziati eh i loghi li forniamo noi e in tutte le sue versioni. Adesso comunque sì se volete proseguo con la mia presentazione che eh diciamo che si concentra insomma è mh verte eh sulle spese ammissibili eh relative alla comunicazione. Eh questo vale per tutti i progetti già finanziati alcuni progetti strategici sono iniziati stanno iniziando eh vale anche per i progetti che o per coloro che stanno presentando il loro il proprio progetto ehm stanno presentando il proprio progetto eh sul bando della capitalizzazione e speriamo quindi in questo modo di darvi dei suggerimenti. Eh quindi avanti per favore Marcella grazie. Eh ricordiamoci quindi che cosa viene fornito dal programma? Eh il programma fornisce eh innanzitutto le linee guida per l'applicazione dell'identità visiva cioè la nostra visual identity è sul sito e come ha detto Sandy in versione italiana attualmente in inglese la versione italiana e slovena sono praticamente preparate le stiamo solo formatando per metterle sul sito. Eh vi diamo formazione e supporto stiamo organizzando questo workshop ne organizzeremo altri e siamo a disposizione per i vostri dubbi scrivendo eh una mail al JIS oppure sulla mail info che troverete in fondo alla presentazione. Eh per quanto riguarda le spese c'è il manuale sull'ammissibilità delle spese in particolare il paragrafo 5 spiega nel dettaglio quali sono le spese ammissibili rispetto alla comunicazione. Facciamo dei workshop e vi diamo supporto diretto. Vi forniremo il logo di progetto quindi il logo del progetto va fatto dalle strutture di programma e vi viene consegnato quindi quando voi presentate un progetto scegliete un acronimo non troppo lungo si si prega non troppo lungo e siete finanziati a quel punto nel momento in cui si firma il contratto di finanziamento noi produciamo il logo in tutte le sue forme quindi a colori in bianco e nero eh in in ritagliato per le targhe in versione minuta per le penne per le usb. Vi diamo tutto il pacchetto completo e inoltre vi forniamo la struttura del sito web di progetto. Questo cosa significa? Significa che questi due scosti ad esempio non sono ammissibili. Un'altra cosa eh che vi ricordo e che lo ricorderò durante tutta la eh presentazione è che comunque non esiste più il WP2. In generale i progetti seguono un tipo di application form che è cambiata rispetto alla precedente programmazione perché è cambiato lo strumento con cui presentate le vostre domande e quindi presentate il vostro progetto. Il WP2, il Work Packet sulla comunicazione non è più previsto. è previsto che la comunicazione venga dettagliata in ogni Work Package di attività di progetto. Quindi non c'è una un'attività specifica solo per la comunicazione ma per ogni eh attività dovete indicare l'obiettivo di comunicazione e le i costi e le attività previste rispetto all'attività progettuale. Questa è una cosa molto importante perché finalmente io dico finalmente so che Sandy condivide la comunicazione viene vista non come una cosa a sé stante da realizzare perché è stata scritta ma come strumento di divulgazione e eh comunicazione del progetto e dei risultati di progetto. Quindi quando andate a ragionare sul progetto dovete pensare per ogni attività che fate in che modo comunicherete quello che state facendo individuando strumenti, budget e eh attività. Quindi è molto importante che voi quando strutturate il progetto ragioniate in questo senso. Possiamo andare avanti. Quali sono le spese per la comunicazione? Quindi come vi dicevo adesso andremo nel dettaglio anche per quanto riguarda il capitolo 5 del manuale. Però eh quello che è importante è che voi nello strutturare un progetto eh ragioniate su quali sono i gadget, le pubblicazioni e le cose che vorrete realizzare tenendo conto del logo di progetto. Questo lo dico soprattutto per i gadget perché appunto ci siamo ritrovati spesso che eh dei beneficiari ci dicono noi vorremmo realizzare questo però il logo non ci sta bene e purtroppo la risposta è stata cambiate gadget. Quindi insomma eh possiamo anche sentirci prima potete contattarci siamo a disposizione però ecco eh va ragionato in questo senso la scelta del gadget va 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 ragionata in base alla visibilità che potete dare al logo di progetto per tutti i motivi che Sandy vi ha elencato nella propria presentazione. Ehm bisogna tener conto che dovrete produrre targhe e cartelloni permanenti e anche quelli temporanei e che questi eh cartelloni e queste targhe devono essere bilingui. Quindi la lingue, le lingue del nostro programma sono l'italiano e lo sloveno. Potete fare anche altre lingue ma l'obbligatorietà è per l'italiano e lo sloveno. Quindi dovete tenere sempre conto del costo delle traduzioni e dell'interpretariato ad esempio per gli eventi. Questo cosa significa? Che a meno che non abbiate un parternariato in cui da subito decidete e vi dividete le necessità di traduzione, è difficile insomma che ci siano persone in grado di tradurre nel dettaglio e di qualità in un parternariato, dovete sempre tener conto dei costi di traduzione e interpretariato. E tenete conto anche delle spese per il personale per la comunicazione, cioè le ore lavoro, la comunicazione è una cosa che richiede tempo. Se avrete dei social, se avrete il sito, dovrete aggiornarli costantemente. Ci vogliono persone che facciano questo. Quindi nelle spese per il personale tenete conto delle ore di lavoro necessarie per la comunicazione. Perché non è accettabile che venga detto non abbiamo avuto tempo di aggiornare il sito. No, non è accettabile. Dovete tener conto delle ore necessarie per la comunicazione. Anche per questo la comunicazione è stata spalmata su tutto il progetto e non solo all'interno del WP. Quindi ogni partner quando prepara il proprio budget deve tener conto di quello che farà a livello comunicativo. Come vi dicevo non è ammissibile la spesa di un sito web perché ve lo forniamo noi, a meno che il sito web non sia un output di progetto, un portale, un qualcosa che in qualche modo sia il risultato di un'attività di progetto, ma di questo anche si vede poi di volta in volta, e nemmeno la realizzazione di un logo. Il logo lo forniamo noi in tutte le sue versioni e possibilità, quindi non è una spesa ammissibile. Grazie Marcella se vai avanti. Adesso entro nel dettaglio di quelle che sono le spese previste nel manuale dell'ammissibilità della spesa. Allora, prima cosa capitolo 5, questo è quello che dovete andare a vedere. Cosa si vuole, cosa si pretende dai beneficiari? La regola è che tutti i beneficiari devono riconoscere il sostegno ricevuto dal programma e contribuire alla visibilità della Commissione Europea. Questo ce lo chiede la Commissione attraverso i regolamenti che vi ha fatto vedere prima Sandy. Quindi loro dicono vi diamo dei fondi, deve essere chiaro chi li ha dati e perché. Quindi ad esempio nel nostro caso attraverso il programma Interreg cofinanziato dall'Unione Europea. Come potete vedere il logo già lo dice questo logo, quindi va posizionato in modo molto visibile in tutti i posti in cui è raggiungibile dal pubblico. Avanti per favore. Lo dico subito, questa cosa è scritta alla fine del capitolo, ma io invece la dico subito. Nel caso in cui ci si accorge che c'è stato un errore nell'applicazione della visual o non sono stati rispettati i requisiti del manuale eccetera e non sono state messe in atto azioni correttive, l'autorità di gestione può decidere di fare un allullamento fino al 2% del sostegno. Quindi gli obblighi di informazione e comunicazione devono essere rispettati nell'arco di tutto il progetto e non solo alla fine quando stiamo concludendo, quando stiamo facendo la relazione finale. E questo controllo viene fatto in modo tale che ad ogni relazione attività prevista per il progetto, quindi ad ogni rendiconto, si alleghino tutte le cose relative alla comunicazione per dimostrare che è stato deciso assieme al JS, quindi tramite email o dimostrazioni videate, che in qualche modo è stato deciso assieme al JS un certo tipo di scelta grafica, scelta di gadget eccetera. Avanti per favore. Quindi è necessario utilizzare il logo del progetto fornito dal segretariato congiunto e metterlo su tutti i prodotti stampati, digitali, siti web, i social media e i costi per la creazione del logo alternativo non sono assolutamente ammissibili. È fondamentale e obbligatorio ottenere l'approvazione del segretariato e la dimostrazione dell'approvazione del segretariato, tipo la corrispondenza via mail, deve essere inclusa come allegato all'interno del rendiconto. Quindi se mettete la fattura del pagamento del gadget, dovete mettere la foto del gadget e dovete allegare anche le email con il segretariato in cui voi avete deciso assieme al segretariato di prendere quella decisione. Questo lo si fa perché il forse del control deve vedere che è stata una scelta condivisa, in questo modo non entra nel merito dell'essere in linea con la visual identity. avanti per favore. È necessario che tutti i documenti, tutte le cose relative a promozioni di progetto siano bilingue in italiano e sloveno, quindi gli inviti agli eventi, le pubblicazioni, le brochure, tutto ciò che viene messo, il logo bilingue. Sono ammesse altre lingue, certo, ma le lingue principali sono l'italiano e lo sloveno e in caso di eventi pubblici è obbligatorio offrire l'interpretariato simultaneo. Sono ammesse anche altre lingue, ma l'italiano e lo sloveno sono fondamentali. Allora, per quanto riguarda gli eventi specifico che gestiremo la cosa così come l'abbiamo gestita in questa programmazione, ovvero se l'evento viene replicato in Italia e in Slovenia identico, allora si può fare un evento in italiano e in sloveno, ma PowerPoint, agenda, inviti, comunque devono essere bilingui, ok? Quindi se per il progetto diciamo si prevede una presentazione e la si fa una in Italia e una in Slovenia nella lingua dello Stato, va bene, ma comunque in questo caso abbiamo replicato lo stesso evento. Se gli eventi non sono identici devono essere a disposizione dei beneficiari, dei cittadini di entrambi gli stati. Questo è fondamentale, anche questo va in qualche modo dimostrato attraverso i volantini, attraverso delle email e tutto ciò che può dimostrare che la cosa è stata effettivamente fatta, registrazioni eccetera. Per favore avanti. Idem per riproduzione di video, i video sono diciamo proprio richiesti in questa programmazione, quindi si suggerisce di creare dei video sul progetto, dei video che in qualche modo divulgano i contenuti, abbiamo visto e messo in pratica anche nella nostra programmazione attuale, cioè quella che si sta concludendo, scusate, e che i video sono un ottimo e il nuovo strumento di comunicazione. Quindi ogni progetto è bene che faccia il video, ma il video deve essere o bilingue o sottotitolato in entrambe le lingue. Come potete vedere sono costi, quindi tenetene sempre conto perché sottotitolare o fare una voce fuori campo in un'altra lingua è un costo. Quindi quando si immagina la produzione di un video va tenuto conto anche di questo. Avanti per favore. Poi siamo qui nella sezione del poster, ho i cartelloni o le targhe di cui vi ha già detto Sandy, comunque bisogna fare un poster per ogni partner oppure un cartello, diciamo una targa nel sito di dotazione di progetto, i contenuti devono essere sempre in italiano e sloveno, in entrambe le lingue e la prova di affissione va allegata alle dimostrazioni di spesa. Quindi le relazioni di stato di avanzamento quest'anno, cioè in questa nuova programmazione, richiedono insomma degli allegati in più che sono quelli che dimostrano la corretta realizzazione rispetto alla visual identity. Prossima slide, stessa cosa come vi abbiamo detto, noi vi creiamo la base, il sito web, la struttura, voi dovete continuamente aggiornarla in italiano, sloveno e anche in inglese. L'aggiornamento deve essere fatto ogni due mesi e gli screenshot devono essere inclusi sempre come nella relazione dello stato di avanzamento. Quindi confermo che costi per siti web alternativi di semplice dimostrazione, cioè di semplice realizzazione del progetto non sono ammissibili. E cosa fondamentale, dovete nominare un responsabile della comunicazione del progetto, cioè ci vuole una persona che è la referente della comunicazione alla quale noi del segretariato e dell'autorità di gestione scriviamo, mandiamo le password per la gestione del sito, comunichiamo le necessità o gli avvisi relativi alla comunicazione. Quindi il responsabile della comunicazione deve essere una specie di collettore di tutte le necessità della comunicazione di tutti i partner di progetto è l'unico con cui noi comunichiamo. Non è pensabile che tutti i partner ci scrivono e ci chiedano cose, è necessario che il responsabile sia uno e sia quello con cui noi ci confrontiamo. Poi ogni partner può avere la propria persona che fa anche la comunicazione, ma comunque noi come segretariato dobbiamo comunicare con il responsabile della comunicazione. Questo è il riassunto di quello che è il manuale, non è neanche tanto riassunto, è il contenuto principale del capitolo 5 del manuale sulla ammissibilità della spesa ed è quello a cui voi dovete assolutamente fare riferimento. Come vedete le novità sono queste aggiunte di allegato che dimostrano che voi avete concordato con l'autorità e con il segretariato i contenuti comunicativi del vostro progetto. Vi ricordo la prossima slide, quindi abbiamo tutti i nostri canali social, anche voi potete averli ovviamente utilizzando il logo corretto e cercando quindi di essere correnti col bilinguismo e la parte estetica della comunicazione. Quando e se sarete finanziati riceverete tutte le informazioni di dettaglio, ma se siete progetti già in attività, oggi dovreste aver ricevuto sufficienti informazioni e riceverete il logo, ci comunicherete responsabile del progetto e cominceremo a lavorare insieme. Per chi invece si sta presentando per il bando sulla capitalizzazione è fondamentale che tenga conto di queste informazioni nella struttura del proprio budget e delle proprie attività progettuali. Spero di essere stata chiara. Bene. Le domande in fondo. Adesso, Sandy. Allora, grazie, grazie Claudia. Quindi, linee guida come documento principale di riferimento, ovviamente, sicuramente ci sarà una seconda versione, questo oggi volevo anche annunciarlo, perché di fatto implementeremo, integreremo le linee guida in base anche alle varie necessità di andare nel dettaglio, di, diciamo, esplodere alcune sezioni per essere più chiari possibili, perché chiaramente lo sforzo deve essere da ambo parte, da ambo le parti, quindi da parte nostra come operatori di programma e da parte dei beneficiari, che appunto devono individuare, questa è una cosa molto importante, responsabili della comunicazione, che linee guida parlano anche di responsabili dei social media, perché ovviamente sono due professionalità diverse, complementari a volte. Quindi, vi prego, cercate di pensare alla comunicazione come qualcosa di veramente strategico per il vostro progetto, perché probabilmente molte dei proponenti saranno enti, organismi che già hanno lavorato per i progetti interi, che quindi sono enti pronti per un'evoluzione dal punto di vista della comunicazione e come è successo nel 14-20 e nell'ottica anche di capitalizzazione, la comunicazione deve diventare sempre più strategica, in modo tale che anche noi come programma possiamo aiutare e sostenere i progetti in termini di visibilità a livello europeo. Quindi linee guida, ripeto, come documento cardine, un solo logo che viene fornito dal programma, quindi non prevedete soldi, insomma importi per costruire vostri logo. Un sito che è quello ospitato dal programma, fatto salve alcune eccezioni di cui ha parlato Claudia, come ho detto l'individuazione dei responsabili della comunicazione con il quale poter comunicare e con il quale sia l'intera partnership a potersi raffrontare sulle diverse questioni. Cioè non è che il singolo proponente, non è che è una cosa vietata, però diciamo suggeriamo di instaurare all'interno della partnership un rapporto privilegiato con responsabili di comunicazione, in modo tale che non siano i singoli partner a chiamare il segretariato, che spesso succede magari alla fine di una procedura di acquisto, di un budget, oppure insomma in conclusione per fare la targa. Cioè ci devono essere, deve essere instaurato un tipo di rapporto costante e continuativo, anche in vista dell'aggiornamento del sito web che è altrettanto importante. Sapete che altri soggetti, terzi, consultano il nostro sito e da lì anche estraggono informazioni. Quindi il fatto di aver fatto la scelta nel 14-20 di inglobare tutti i siti dei progetti è stata sicuramente positiva, è stata molto offrezzata dall'Unione Europea. Quindi 10.44, siamo 5 minuti in anticipo, come ho detto meglio le domande se le mettiamo in fondo, se le affrontiamo a chiusura, io avvierei a questo punto la pausa e ci possiamo risentire alle 11. Sì, alle 11 riprendiamo, grazie. A dopo. Facciamo proprio i minuti per ricominciare e per riprendere questo questo incontro con l'intervento del collega Alessandro Bosco, che è un collega che supporta l'autorità di gestione del programma anche in ambito di comunicazione. Quindi prego Alessandro, comincia pure. Buongiorno, grazie Sandy. Sono Alessandro Bosco, come detto, a supporto dello staff di autorità di gestione e oggi vi presenterò degli esempi di applicazione delle linee guida della visual identity che è stata introdotta prima. Gli esempi di applicazione sono contenuti principalmente nell'allegato 2 del documento principale di visual identity che sarà messo a disposizione prossimamente dopo che sarà pubblicato il documento principale. Quindi prima di tutto vi spiegherò brevemente cosa è contenuto in questo allegato e procederò poi con riferimenti normativi che per la maggior parte sono già stati accennati e affrontati dalle mie colleghe in precedenza e poi vi mostrerò alcuni esempi di applicazione e vi mostrerò dei template specifici che i progetti dovranno e potranno utilizzare per i propri materiali di comunicazione come il comunicato stampa, un template powerpoint, poster, targhe o cartelloni permanenti. La prossima slide, per favore. L'allegato 2, come ho detto, il titolo dell'allegato è esempi grafici di applicazione del logo di progetto nei vari fasi di comunicazione. È strutturato come segue, come vedete, quindi ci sono prima tutti i riferimenti normativi che sono per lo più i regolamenti europei 1059 e 1060 del 2021 che abbiamo già visto nelle precedenti presentazioni. Ci sono poi degli esempi di stampa, quindi esempi di comunicati stampa, esempi di blocco note, esempi di carta intestata che i progetti dovrebbero utilizzare in tutti i loro materiali di comunicazione. Ci sono poi degli esempi su tutti i materiali che servono per organizzare e per divulgare degli eventi, quindi template di presentazioni powerpoint, template di volantini, di agende o di inviti. E poi c'è una parte che è più regolata nello specifico nel regolamento 1059, nell'articolo 36, che fa riferimento agli obblighi in questo caso per quanto riguarda la fissione di targhe e cartelloni permanenti per determinate tipologie di progetto, che poi vi mostreremo nel dettaglio, e anzi oppure di poster temporanei. E poi, come ultime parti, ci sono anche degli esempi di altri esempi di articoli promozionali, come per esempio chiavette USB, borsette di tela o penne o altri materiali e poi degli strumenti online. Prostima slide, per favore. Come ho detto, il riferimento normativo principale per quanto ci concerne in questa presentazione è l'articolo 36,4 del regolamento 1059-2021 dell'Unione Europea, che spiega un po' i doveri o comunque le raccomandazioni di cosa dovrebbe fare ciascun parte di un'operazione Interreg. L'operazione Interreg, in parole povere, è un progetto. Io ho preso questi tre commi, che sono i più principali per questa presentazione, ma poi ci sono anche altri articoli di riferimento. In questi commi vengono evidenziati, il coma B evidenzia che ciascun progetto dovrebbe apporre sempre una dichiarazione che pone in evidenza il sostegno del fondo Interreg viene fatto principalmente utilizzando il logo del progetto nelle maniere che sono state spiegate precedentemente. E poi i commi C e D fanno riferimento all'obbligo, il coma C fa riferimento all'obbligo di esporre targhe e cartelloni permanenti per tutti i progetti che sono il cui costo totale del fondo FES utilizzato supera i 100.000 euro e per tutti i progetti che comportano investimenti materiali o l'installazione di attrezzature acquistate. Quindi se queste due situazioni esistono, c'è l'obbligo di apporre delle targhe o cartelloni permanenti da subito, non appena inizia l'attuazione materiale del progetto. In tutti gli altri casi invece si fa riferimento alla lettera D, dove invece è comunque obbligatorio l'esposizione pubblica di almeno un poster o di un display analogo temporaneo. Passiamo adesso al primo esempio che fa riferimento a tutti i materiali di stampa che devono essere prodotti dai progetti. Qua sulla destra trovate un esempio di un comunicato stampa con tutti gli elementi necessari o comunque consigliati che dovrebbero essere inclusi. Correndo c'è sicuramente il logo del progetto che va posto prevalentemente in alto a sinistra, tenendo conto delle produzioni e dei margini bianchi a contorno del logo. Oltre a questo sono anche consigliati tutti i loghi dei partner, sia del lead partner che di tutti i partner di progetto. In questo caso sono collocati in fondo e, come già spiegato dalle colleghe, in riferimento all'allegato 9 del regolamento 1060 non devono essere più grandi dell'emblema dell'Unione Europea. Bisogna fare attenzione ai colori, in questo caso c'è un richiamo ai quattro colori della programmazione 2021-2027, oltre a questi, più in particolare, sarebbe bene utilizzare il colore dell'obiettivo di riferimento del progetto, che è uguale a quello che trovate nell'esempio di logo di progetto, dove lo sfondo dell'acronimo. Il testo per tutti i materiali deve essere bilingue e preferibilmente devono essere posti sullo stesso piano, quindi in questo caso a sinistra trovate il testo in italiano, a destra quello in sloveno. Devono essere riportati tutti i contatti e il sito del progetto, con magari particolare riferimento anche ai canali social. E deve essere esplicitato il confinanziamento dell'Unione Europea, che viene fatto sia attraverso l'utilizzo del logo ufficiale del progetto, dove c'è il riferimento al confinanziamento dell'Unione Europea, e anche in questo caso l'abbiamo messo a piedi pagina, c'è una didascalia dove viene rimarcato che il progetto in questione fa parte del programma Interreg Italia-Slovenia e che è cofinanziato dall'Unione Europea. I testi ufficiali, testi da utilizzare in entrambe le lingue, li forniremo e saranno disponibili nell'allegato, assieme a tutto il resto del template. Il secondo esempio fa riferimento a un materiale che serve nel corso degli eventi, se organizzate degli eventi che siano in presenza o che non siano in presenza, ci sono comunque delle regole da rispettare. Come ho detto, abbiamo nell'allegato 2 degli esempi sia per l'agenda o per gli inviti, in questo caso invece vi ho mostrato il template PowerPoint. Qua vedete è solo la prima pagina che come vedete ha il logo del progetto, ha tutto il testo bilingue, ha tutti i riferimenti del relatore e tutti i riferimenti alla data e al tipo di evento e c'è anche un richiamo ai colori del programma e in particolare del progetto e richiamo il cofinanziamento dell'Unione Europea nel logo. Negli altri esempi di slide, che non sono mostrati qua ma che sono inclusi nel template complessivo, ci sono anche i loghi dei singoli partner e tutti i contatti del del progetto di riferimento. Prossima slide. E questo è un esempio invece di un poster, un'impostazione, un esempio di impostazione di un poster che, come ho detto prima, è obbligato in un poster temporaneo, quindi che può essere spantellato al termine del progetto, è obbligatorio per tutti i progetti che non rientrano nel caso successivo, quello della targa permanente. Quindi tutti i progetti devono affiggere un poster temporaneo della dimensione almeno A3, quindi dimensione minima A3, che includa, come vediamo qua, il logo del progetto e in basso ci sono anche i loghi dei partner, del lead e dei partner di progetto, il nome e il titolo per esteso del progetto in bilingue ovviamente, i colore ufficiali del progetto, testo bilingue come ho detto, i contatti del sito del progetto e il riferimento al confinanziamento dell'Unione Europea. All'interno del poster è consigliato anche, anzi è fortemente consigliato, diciamo, una breve descrizione del progetto e della situazione di avanzamento progettuale alla data in cui è stato prodotto il poster. Invece, questo esempio qua fa riferimento a una targa, un cartellone permanente. La targa e il cartellone permanente sono obbligatori, sempre secondo l'articolo 36,4 del regolamento 1059, sono obbligatori per tutti i progetti il quale costo FESR supera i 100.000 euro e il quale progetto comporta degli investimenti materiali o l'installazione di attrezzature acquistate. In questo caso è obbligatorio, non appena inizia l'attuazione materiale del progetto, è obbligatorio l'affissione in un luogo pubblico chiaramente visibile di o una targa o un cartellone della dimensione minima di un metro per un metro e mezzo che presenta gli elementi che trovate qua, che sono simili ai precedenti. Quindi il logo del progetto che deve essere, che deve ricoprire almeno un quarto della lunghezza, in questo caso della targa, il nome del progetto per esteso in entrambe le lingue, i colori di riferimento del progetto, i contatti, i loghi dei partner e la menzione del cofinanziamento europeo. Prossima slide. Io ho terminato per tutti, nel dettaglio ci saranno tutti i dettagli e i template sanno forniti nell'allegato 2 che sarà a disposizione a breve e vi ringrazio. Allora grazie Alessandro. Allora in merito all'allegato 2, giusto per fare un po' di chiarezza, attualmente la versione approvata e pubblicata in inglese sul sito del programma non contiene questo legato 2, contiene, diciamo, da delle disposizioni normative. Come dicevo all'inizio sarà prodotta una seconda versione, nel più breve tempo possibile, che conterrà questo allegato 2 in modo tale da presentare appunto gli esempi applicativi. Come ho detto sono esempi, sono esempi, sono indicazioni che noi come programma ci sentiamo di fornire per darvi dei suggerimenti e per farvi capire quanto è importante sia anche conoscere quali sono le regole e per pianificare correttamente la comunicazione. Quindi attenzione che a breve diciamo che cercheremo di fare a breve insomma questo secondo allegato tenuto conto dello stato di attuazione del programma e sempre considerata anche la piena disponibilità del segretariato congiunto. Le nostre sono indicazioni standard. Ovviamente siamo consapevoli che ci sono delle eccezioni, ci sono delle particolarità, dei prodotti che vengono realizzati che sono borderline tra promozionale e di attuazione pura progettuale per cui comunque vanno discusse su tali prodotti quindi va fatto a una riflessione di intesa con il segretariato congiunto e quindi l'intenzione dell'autorità di gestione è anche quello di fornire i template e quindi degli esecutivi che contengano gli elementi previsti dalle linee guida e quindi dei regolamenti almeno per quanto riguarda gli obblighi fondamentali che sono quelli del poster e della targa. Ovvio che in merito la dimensione della targa sono dimensioni indicative ma stava sempre considerato il prodotto che ne esce, che è l'output del progetto. Bene, quindi io procederei con, grazie comunque di nuovo Alessandro, procederei con l'intervento della dottoressa Marcella Leo che è a supporto sempre dell'autorità di gestione per attività anche di comunicazione, dico anche perché comunque molti di noi sono trasversali però diciamo apportano il loro contributo, prezioso contributo sulla parte comunicativa sia essa comunicazione pura che insomma anche social o di strategia. Prego Marcella, la parola a te. Grazie Sandy, buongiorno a tutti, vi presento ora gli strumenti dedicati ai progetti, ovvero adesso ci stacchiamo un po' da quello che è stato il tema fino adesso, quindi l'attuazione dell'identità visiva del programma, ma vediamo invece come questi strumenti di comunicazione, in questo caso a livello europeo, possono aiutare i progetti in una fase come quella attuale di avvio di una nuova programmazione e di recente anche lancio del bando di capitalizzazione per quanto riguarda il nostro programma Interreg Italia Slovenia in cui i progetti e i partner possono essere alla ricerca di nuove idee o nuovi partner con cui stringere nuove partnership. Allora partiamo con questi strumenti, il primo che vi vorrei presentare è la piattaforma KIP, è un sito gestito da Interact, un sito che probabilmente già molti di voi conoscono, però è un sito che è in continua evoluzione, per questo oggi ve lo presentiamo e ve lo presentiamo di nuovo ma illustrandovi anche delle nuove funzionalità di questo sito e anche per mostrarlo a chi magari ancora non è atterrato su questa grande piattaforma. KIP è una piattaforma come dicevo gestita da Interact, implementata da Interact e che raccoglie tutti i dati dei programmi e dei progetti della grande famiglia Interreg. Tutti questi dati risalgono dalla programmazione 2000-2006 fino ad oggi, quindi ci sono tutti i dati anche relativi alla programmazione 2014-2020 e Interact implementerà anche i dati relativi alla 2021-2027. Quali sono questi dati contenuti in questo sito? Sono compresi i dati finanziari, mi dicono che si sente male. Mi sentite meglio ora? Scusa Marcella se ti abbiamo interrotto, ma mi era stato segnalato che si sentiva male. Fedra adesso mi confermi, mi dai un cenno? Mi sentite? Molto meglio. Inoltre hanno chiesto di rimpicciare, dicono che le slide sono tagliate, ma non sono tagliate, sono così, sembrano tagliate perché hai preso solo parte della pagina. Sì, sì, sì. In un formato diverso, probabilmente tre quarti rispetto al solito. Bene, scusate. Grazie, vai. Grazie, vai. Riprendo, dicevo, questa piattaforma, questo sito, KIP, contiene diversi dati relativi ai programmi e ai progetti Interreg, ma quali dati nel concreto? Sono contenuti i dati finanziari, le partnership realizzati dai progetti, gli obiettivi e anche risultati concreti raggiunti sia a livello di programma che a livello dei progetti. Come potete immaginare, quindi, è una piattaforma grandissima che contiene una grandissima quantità di dati. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, sono contenuti oltre 7700 progetti di 97 programmi realizzati nella programmazione 2014-2020, comprendendo anche più di 4.000 documenti e informazioni relativi a quasi 25.000 partner, quindi un grandissimo database con tantissime informazioni che però, vi dico, sono contenute e raccolte in maniera straordinaria. Infatti, la ricerca all'interno di questo sito è molto facile e molto veloce, come vi farò vedere a breve. Ma perché diventa utile questo strumento? È utile sia per i lead partner, che hanno già delle idee progettuali, per trovare nuovi partner, i partner necessari a realizzare la propria idea progettuale, ma allo stesso modo è utile anche per potenziali partner che vogliono trovare il progetto adatto per portare il proprio valore aggiunto e quindi fare la differenza all'interno del partenariato. Vi dicevo, una grandissima molle di dati, ma che può essere filtrata in maniera molto semplice. Infatti, sono offerti dei filtri sulla base della zona geografica, del settore di esperienza, della priorità di investimento, del partner che si vuole andare a ricercare. Si può anche filtrare la propria ricerca in base a enti pubblici o enti privati e anche al tipo di programma che ha fornito i finanziamenti al partner. Quindi una varietà di filtri per trovare il partner più adatto alla propria ricerca. Oltre al partner, come dicevo, oltre a un elenco di partner c'è anche tutto l'elenco dei progetti finanziati dai programmi interreg e anche in questo caso, allo stesso modo, possiamo effettuare la nostra ricerca sulla base della lingua principale utilizzata dal progetto. Il programma, anche in questo caso, o il ciclo di programmazione che ha finanziato il programma, il budget che è stato messo a disposizione e anche la partnership che è stata sviluppata, che è stata creata da questo progetto. Adesso vi mostro nel concreto come funziona questa piattaforma. Come vedete, come vi dicevo, è molto semplice. Questa è la homepage, il sito è www.keep.eu e in homepage, le sezioni, vedete, poi ci potrete giocare, un sito molto interattivo, vedete c'è una cartina tematica con tutte le zone, eccetera, con tutti dei dati molto interessanti, ma nel nostro caso, per la ricerca di partner, la sezione che ci interessa è questa, in cui noi cliccando su partner, vedete questa sezione a sinistra è la sezione in cui, vi dicevo, noi possiamo filtrare, in cui possiamo indicare che cosa noi stiamo cercando. La prima modalità è la più semplice, possiamo filtrare i risultati sulla base di una parola. Quindi, ad esempio, se noi stiamo cercando partner che si dedicano all'educazione, sarà semplicemente possibile scrivere education, in questo caso, e troveremo, la ricerca sarà filtrata sulla base di partner, vedete che ci viene indicato anche se sono stati partner o lead partner che si sono occupati appunto del tema dell'educazione. Chiaramente i risultati sono ampissimi, per cui possiamo filtrare ancora di più la nostra ricerca utilizzando i filtri successivi. Come vi dicevo, vedete, possiamo selezionare i partner che siano enti pubblici o privati in base all'area geografica di appartenenza del partner. Se vogliamo vedere solamente lead partner o project partner, il campo di esperienza, il periodo di programmazione, il tipo di programma, eccetera. Comunque, vedete, in questa sezione potrete trovare tutti i filtri da applicare alla vostra ricerca. Tornando alla home page, come vi dicevo, possiamo anche fare una ricerca per quanto riguarda i progetti che troviamo qui in project and documents e allo stesso modo, anche qui, si può effettuare una ricerca sulla base di una parola chiave, sulla base di un tema, eccetera, insomma, una ricerca libera che potete effettuare a vostra discrezione, oppure utilizzando i filtri già proposti, come ad esempio, anche in questo caso, la lingua principale utilizzata dal partner. E vedete, anche i risultati possono essere mostrati in unica lingua, il tipo di programma, il periodo di programmazione, eccetera, eccetera. Il budget, gli obiettivi, la strategia macro-regionale, insomma, una grandissima quantità di filtri per far sì che il risultato sia il più affine, il più adatto alla vostra ricerca. Vedete, anche in questo caso c'è una mappa e vedete a livello grafico quanti sono i progetti finanziati sul territorio europeo e anche oltre. Cosa interessante è stata l'aggiunta che è stata inserita nel sito keep.eu recentemente e lo vedete qui, in alto a destra, potete accedere direttamente, anche sempre da questo sito, alle calls lanciate da tutti i programmi interreg. Infine, l'ultima cosa che vi faccio notare è anche questa sezione dedicata alle statistiche. Keep, infatti, consente, anche in questo caso, tramite l'applicazione di filtri, di produrre delle statistiche relative a sempre i risultati raggiunti dai programmi e dai progetti interreg. Insomma, è un sito molto complesso, con una grandissima vastità di dati, ma che mette a disposizione degli utenti, sia essi cittadini o anche, in questo caso, progetti o partner che sono alla ricerca, che sono in fase di avvio, di ideazione di un progetto, questo grande sito permette di mettere a disposizione una grande quantità di dati, ma in modo del tutto utile e anche semplice a tutti i progetti e partner che sono alla ricerca di informazioni. Andiamo avanti con il secondo strumento che vi presento oggi e che è sempre uno strumento fornito dall'Unione Europea, in questo caso della Commissione, e si chiama questo sito Cohesio. Cohesio è una nuova piattaforma presentata dalla Commissione Europea, anche in questo caso si tratta di un sito, ed è una piattaforma ancora più ampia rispetto al sito, alla piattaforma KIP, in quanto offre un accesso facile e trasparente a informazioni aggiornate su progetti e beneficiari, anche in questo caso, che però sono stati cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione Europea, in toto, quindi tutti progetti finanziati dalla politica di coesione dell'Unione Europea, per quanto riguarda il periodo specifico di programmazione 2014-2020. Quindi rispetto a KIP, che comprende i dati solamente relativi ai programmi e progetti Interreg, per le programmazioni che vanno dal 2000 fino al 2014-2020 e è in fase di implementazione la 2021-2027, il sito Cohigio raccoglie non solo i progetti e i programmi Interreg, ma tutti i beneficiari e i programmi finanziati dalle politiche di coesione dell'Unione Europea, ma solo e limitatamente alla programmazione 2014-2020. Ciò non significa che ci troviamo davanti a una minore quantità di dati, infatti i fondi interessati sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo Sociale Europeo. Il database contiene attualmente più di un milione e mezzo di progetti e circa 500.000 beneficiari e sarà implementato anch'esso con i dati relativi alla programmazione 2021-2027. tramite Cohigio quindi abbiamo la possibilità di rintracciare per la prima volta in un unico database non solo i dati sui progetti finanziati nell'ambito della politica di coesione e sul loro stato di attuazione, ma anche informazioni specifiche relative ai 500.000 beneficiari dei progetti stessi e su più di 300 programmi operativi nei 27 stati membri dell'Unione. Anche in questo caso è messa a disposizione una mappa interattiva che permette di raccogliere e analizzare i dati anche in modo georeferenziato. Anche in questo caso vi mostro la piattaforma che come KEEP è di facile utilizzo ed è intuitiva. Solo un secondo. Ecco qui il sito che trovate coesio.ec.europa.eu Questa è la home page, vedete subito la mappa interattiva e le nostre aree di interesse anche in questo caso sono raccolte in questa barra per quanto riguarda i beneficiari, anche in questo caso sono a disposizione dei filtri sulla base dello stato, ad esempio se prendiamo la Slovenia, possiamo raffinare ancora di più la nostra ricerca oltre che sullo stato anche in base alla regione statistica di cui ci vogliamo andare a occupare. e anche qui ad esempio prendiamo l'Obalno-Kraska più ulteriori filtri, anche in questo caso sulla base del programma e del fondo. Cliccando su Show Results possiamo vedere una lista di tutti i beneficiari che sono stati coinvolti all'interno della politica di coesione dell'Unione Europea per quanto riguarda la Slovenia e la regione Obalno-Kraska. e anche in questo caso vi lascio giocare con i diversi filtri sulla base di quello che state cercando. Ritornando sempre in homepage, oltre ai beneficiari, possiamo trovare anche i progetti che sono stati finanziati sempre dalle politiche di coesione. Qui i risultati sono anche in questo caso molto molto ampi ed è possibile sulla base, come vi ho fatto vedere già, per i beneficiari possiamo filtrare la nostra ricerca in base allo stato, alla regione e all'obiettivo, insomma alla politica del progetto e anche al tema. In questo caso abbiamo anche ulteriori filtri in base al budget e al campo di intervento, eccetera, eccetera. La cosa sicuramente qua interessante, adesso vi mostro un esempio, prendiamo sempre la Slovenia con la regione Obalno-Kraska e vediamo i risultati. Qui la cosa interessante, oltre a vedere l'elenco dei progetti finanziati, abbiamo anche a disposizione una mappa interattiva che ci mostra il filtro della nostra ricerca. Vedete? Questa è la regione che è stata selezionata e troviamo in tutti i vari cerchietti i vari progetti insomma della zona interessata. Come potete vedere ci sono anche dei cerchietti rossi che si distinguono dagli altri blu e questi sono delle aree che comprendono dei progetti fare, insomma dei progetti che vogliono essere portati all'attenzione perché considerati delle buone esperienze, insomma delle buone pratiche che vengono segnalate sulla mappa sulla base di questi cerchietti rossi. Quindi come vedete questa è la piattaforma intuitiva e anche in questo caso è sufficiente giocare un po' con i filtri per trovare tutto quello che si sta cercando. Infine arriviamo all'ultimo strumento, a un ultimo strumento per la ricerca di partner o di informazioni relative ai vari progetti finanziati della politica di coesione o dei programmi Interreg e in questo caso scendiamo a un livello un po' più micro. Siamo partiti dai grandi database, arriviamo a quello che è stato fatto dal programma Interreg Italia-Slovenia, quindi chiaramente siamo a un livello un po' più locale e parlo della nostra brochure, dello stato dell'arte, dei progetti finanziati dal programma Interreg Italia-Slovenia per quanto riguarda la programmazione 2014-2020 che giungendo a conclusione è stato fatto un po' un riepilogo dei risultati, degli obiettivi fissati dei progetti e dei risultati effettivamente raggiunti. Anche in questo caso può essere uno strumento utile in vista della nuova programmazione, infatti accedendo al nostro sito nella sezione relativa ai progetti dell'attuazione progettuale potrete trovare questa pubblicazione in formato PDF in cui sono contenute tutta la parte descrittiva dei progetti finanziati nonché anche tutta la lista dei partner progettuali e partner associati, quindi più di 367 beneficiari provenienti da tutta l'area di programma che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti nella programmazione 2014-2020. Uno strumento sicuramente non così massivo, non così di grande respiro come quello che è KEEP e Cohesio ma che sicuramente nel nostro ambito può ritornare utile per insomma recuperare le varie partnership oltre che tutte le informazioni relative ai progetti della programmazione 2014-2020. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Io ho concluso. Grazie Marcella, quindi... Io, Sandy scusami, vorrei aggiungere una cosa per tutti quelli che forse non hanno visto la chat perché la dottoressa Comelli dell'autorità di gestione ci ha ricordato che il nostro sistema GEMS che è quello sia per la presentazione dei progetti ma che sarà anche quello per la rendicontazione è direttamente collegato con KEEP e questo significa che i dati dei progetti una volta inseriti in GEMS parliamo dei progetti finanziati vanno automaticamente in KEEP questo è proprio un aggiornamento quindi in tempo reale di quella che è la situazione dei progetti finanziati e quindi della possibilità di vedere interazioni a livello appunto europeo o con altri fondi eccetera quindi questa è un'informazione molto importante il motivo per cui appunto vi presentiamo queste cose è che proprio nell'ottica di nuovi bandi di future programmazioni questo è un database sono dei database molto importanti per primo non replicare forse cose già fatte ed è il motivo per cui la commissione spinge molto su questo e secondo per poter trovare informazioni su parternariati o possibili insomma anche capitalizzazione di nuovi progetti grazie esatto e grazie Marcella grazie Marcella grazie Claudia e il termine ecco più diciamo strategico in questo caso è proprio la capitalizzazione sul prevista dal programma Interreghe Teresovegna che ha anche lanciato un bando primo bando appositamente per capitalizzare i risultati certo che è che anche da parte del programma la volontà è quella anche di ristrutturare e rilanciare il sito web per la programmazione 2127 certo è una veste grafica nuova ma anche in un'ottica diversa che vuole in qualche modo dare evidenza a quelli che sono gli output concreti e dei progetti da diffondere e certamente questi strumenti di condivisione della conoscenza sono importantissimi per come diceva Claudia non replicare per sfruttare al meglio le proprie potenzialità per capire se altre partnership possano essere interessate agli output dei progetti in una propria un'ottica di giver e taker più ampia rispetto alla rato programma vi ricordo anche che l'Europa ogni anno ovviamente sancisce l'anno europeo in base a un tema specifico quest'anno erano i giovani il prossimo anno dovrebbero essere le skills, le competenze quindi pensate anche in un'ottica di promozione europea in chiusura soprattutto in chiusura potendo anche partecipare come relatori ad eventi organizzati a Bruxelles comunque in ambito europeo durante le settimane tematiche piuttosto che altri eventi dedicati all'anno delle competenze comunque le opportunità di visibilità oltre i confini del programma ce ne sono certo che noi cerchiamo almeno di assicurare, suggerire e darvi indicazioni precise per correttamente attuare le linee guide la visual identity quindi le attività di comunicazione a livello di progetto per diffondere i risultati del programma nell'area programma principalmente bene quindi a questo punto possiamo passare alle domande vero Claudia? non ti sento Claudia eccomi alcune di queste sono state anche anticipate noi nella nostra nel foglio iscrizioni per questo evento abbiamo chiesto ai diciamo nostri iscritti di se se volevano di dire di anticiparci le domande a cui volevano delle risposte per questa sezione useremo Slido che è uno strumento insomma un sito web www.slido.com all'interno del quale inserite il codice hashtag itaslow e potete inserire le domande in questo modo noi possiamo visualizzarle in tempo reale e soprattutto possiamo rimangono insomma rimangono scritte e possiamo gestire più facilmente poi eventualmente il report del nostro evento e quindi invito tutti voi a inserire quindi andare su slido.com e inserire lì eventuali domande che avete tra l'altro già messo in chat vi chiederei di ricopiarle qui affinché tutti possano vedere le risposte e parto comunque dalle domande che sono arrivate attraverso il foglio iscrizioni allora la prima che non è molto legata alla comunicazione dice quando sarà presentato un bando per i nuovi progetti del programma interreg sei a italia slovenia e a chi dobbiamo rivolgersi per piccoli progetti e sandy non so se vuoi rispondere tu oppure rispondo io insomma in questo momento non abbiamo ancora indicazioni stiamo facendo in questo momento è uscito il bando sulla capitalizzazione e a seguire nell'anno prossimo verranno altri bandi però non abbiamo ancora indicazioni temporali giusto? perlomeno non precise quindi inutile dare qua eh prospettive eh visto che comunque è il comitato di sorveglianza che poi va a decidere e e ci sono dei negoziati ovviamente in corso che potrebbero essere veloci come lo stato eh per i progetti di rilevanza strategica eh previsti dal programma operativo che comunque sono sono in corso eh quindi di finalizzazione se vogliamo eh e come anche il bando di capitalizzazione certamente c'è stata una spinta un'accelerazione in tal senso ma sui piccoli progetti eh rimanderei a un successivo incontro eh passo allo sloveno perché la domanda è in sloveno è possibile creare un work package destinato solo alla comunicazione ehm non ha senso non ha senso no non ha senso perché un work package dovrà prevedere una serie di attività di comunicazione e di comunicazione pertanto un specifico work package destinato alla comunicazione non ha senso non è opportuno sì per chi ha partecipato anche l'evento di Caorle l'evento regionale eh è stato anche riferito dal capo del segretariato Aliosha Shoshow che eh si tratta appunto di attività trasversali quindi devono essere spalmate sui vari work package si chiedo scusa adesso non vedo più non vedo più zoom vedete la mia condivisione sì non so ho toccato qualcosa ok ehm Gremo Naprei eh abbiamo un'altra domanda in sloveno Cacora sdeliti comunicazioni che attivano si med del un pacchete in distribuire le attività di comunicazione tra i work package e altre questioni ehm Torrey e non sta uno che andranno indicate tra le attività previste da quel work package Torrey con resta deliti del un pacchete in momento in cui andrete individuare vari work package in ciascuno work package avrete a indicare le attività previste nell'ambito della comunicazione perfetto passo di nuovo all'italiano le linee guida del bando di capitalizzazione indicano di inserire le attività di gestione comunicazione nei work package di progetto e non come work package a se stanti come procediamo e come abbiamo appena risposto vanno inserite le attività di comunicazione in ogni work package e non come work package assistente quindi in ogni work package avete una sezione obiettivi investimenti attività e output e c'è proprio una domanda sulla comunicazione dove c'è la sezione obiettivi si chiede quali sono gli obiettivi per la comunicazione e poi nell'application form c'è anche una sezione C7 che è proprio relativa alla gestione e alla comunicazione quindi in queste sezioni vanno inserite esattamente le cose che intendete fare per la comunicazione e all'interno del work package inoltre poi ogni partner quando va a inserire il proprio budget deve tener conto anche delle attività di comunicazione e speriamo tener conto anche di tutto quello che vi abbiamo suggerito oggi a livello di budget adesso passo allo sloveno può essere considerato una spesa possibile per l'individuazione di un correttore esterno nell'ambito di un progetto di capitalizzazione che possa andare a implementare i contenuti di una piattaforma web già creata nell'ambito del precedente progetto allora torri la cosa veda dò città su un anni svaiale che gestirà i contenuti una piattaforma web può essere personale o un fornitore esterno quindi un professionista esterno adesso ripasso all'italiano per attività trasversali ad esempio newsletter vanno inseriti molteplici deliverable tra i work package anche se la newsletter sarà una per tutti i progetto potete decidere cosa fare la cosa più semplice è ripeterla in ogni attività progettuale se questa è trasversale per tutti i progetti cioè in generale le cose che fate per lungo tutto il progetto vanno semplicemente ripetute all'interno dei singoli work package se dai gremna slovenscino passo di nuovo allo sdoveno che ancora un attimo primiero da poleg pravi il programma ci siano anche delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale in merito diciamo alla visual identity cosa bisogna fare in questo caso si è sempre cercato di arrivare un compromesso in accordo e di concerto con il segretariato congiunto riguardo riguardo alla posizione passo all'italiano riguardo alla posizione della targa devono ricorrere entrambi i requisiti cioè i centomila euro di budget più acquisto attrezzature per renderla obbligatoria qui passo la parola a Sandy ecco dunque noi nella seconda versione della visual chiamo visual linee guida cercheremo di fornire anche una tabella come abbiamo fatto nel 14-20 una tabella per darvi indicazioni precise allora il regolamento dice che la targa o cartellone permanente va a posto quando il costo supera i centomila euro punto due comporta investimenti materiali o l'installazione di attrezzature acquistate quindi non c'è scritto o non è neanche scritto eh ma voglio dire va da sé anche in continuità con l'interpretazione dei regolamenti 14-20 che parlavano invece di 500 mila euro che le due condizioni devono essere coesistenti quindi sì le due cose devono andare devono essere insieme vi chiedo scusa ma io se condivido non riesco a cambiare la lingua dell'interpretariato quindi adesso ho scelto di non mettere nessuna lingua voglio risapere se le traduttrici mi sentono e se sentite le traduzioni altrimenti dovrò credere a qualcuno di condividere lo schermo al posto mio e Claudia vedo un segno positivo dall'interprete ok ok allora continuo senza scegliere la lingua affinché non sentiate l'audio di fondo verso lo sloveno l'acqua prossimo si può ripetere si può ripetere l'informazione merito al bordo intorno al logo cosa bisogna fare in merito al bordo da porre intorno al logo allora in questo caso il logo ovviamente non riusciamo a riproiettare il logo da utilizzare che noi come segretariato programma forniremo i progetti è logo a colori su sfondo bianco questo significa che il logo va posto preferibilmente su tutto il materiale promozionale a colori su sfondo bianco se lo sfondo non è bianco deve esserci cioè ci sono diverse opzioni l'opzione preferibile auspicabile è sempre il logo a colori posto su un riquadro bianco in modo tale che sia chiaramente visibile rispetto alla foto che c'è sullo sfondo se ovviamente ci sono casi in cui lo sfondo potrebbe essere abbiamo fatto ad esempio arancione noi possiamo posizionare il logo senza la cornice il riquadro bianco ma dobbiamo fare attenzione a come riproduciamo la bandiera europea avevamo il caso di logo apposto su uno sfondo arancione lo vedrete nelle slide la bandiera europea resta a colori a colori significa sfondo blu con le stelle gialle cosa ci dice cosa ci dicono i regolamenti che comunque se la bandiera è apposta su uno sfondo colorato attorno alla bandiera ci deve essere un piccolo riquadro una piccola cornice bianca queste sono le regole quindi per questo noi diciamo usate il logo a colori su un riquadro bianco e così anche le regole di applicazione della bandiera europea sono rispettate diversamente se applicate il logo su un altro sfondo come per esempio arancione che potrà vedere certo se è fucsia cioè cerchiamo insomma di avere dei colori non così che vanno a confondere graficamente a livello visivo la posizione del logo e la visibilità del logo spero di aver chiarito grazie Sandy beh poi anche per la stella la domanda che segue no 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 la domanda che segue è legata invece di nuovo ai VP della comunicazione allora ripeto non c'è più il VP2 non c'è più il work package esclusivo per la comunicazione in ogni work package di progetto che andate ad inserire dovete però specificare le attività di comunicazione legate a quel work package inoltre dovete indicare anche l'obiettivo di comunicazione quindi i deliverables vanno spalmati lungo tutte le attività di progetto non essendoci solo il work package sulla comunicazione dovete decidere se ripeterli diciamo in ogni work package o se sono relativi solamente ad un work package vado avanti in italiano il responsabile della comunicazione e dei social possono essere la stessa persona ma certo cioè il responsabile della comunicazione è colui con il quale noi ci confrontiamo e con il quale discuteremo quando necessario dei contenuti comunicativi del vostro progetto un unico interlocutore tra JS e progetto poi all'interno voi potete decidere se avere il vostro team della comunicazione non lo so uno per partner uno per i social uno per i sito ma può essere anche sempre la stessa persona l'importante è che se noi parliamo con il responsabile della comunicazione questo deve significare che tutti i partner sono poi informati da questo responsabile su quello che noi le siamo andati a comunicare ecco deve essere un tramite e aggiungo vi prego cercate anche di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione per quanto riguarda i testi che devono essere bilingui soprattutto in termini di visibilità sul sito web e quindi far leggere i testi tradotti ai partner sloveni se tradotti in sloveno in modo tale che non vi siano incongruenze fastidiose ecco in termini proprio di traduzione letterale grem na slovenscino 13 znakov z acronim je uredu ne no non lo so quindi 13 caratteri per un acronimo è sufficiente no l'acronimo il logotipo non è enorme ma è forse 13 caratteri per un acronimo forse sarebbe un po' troppo che ne pensate che ne pensi Sandy se date un'occhiata al logo nel visual identity e se vedete il posizionamento ad esempio solo della parola acronimo che ha quanti 10 caratteri se non mi sbaglio ci sta a malapena quindi una una denominazione di 13 caratteri in un acronimo forse sarebbe un po' troppo lunga cercate di accorciare in caso sia necessario affrontare ed apporre la targa essa è obbligatoria per tutti i partner di progetto Sandy qui ti prego di rispondere tu allora ovviamente il senso di apporre una targa è dare evidenza che in quel sito principalmente è stato realizzato qualcosa grazie ai fondi europei quindi va da sé io adesso penso alla installazione di una centralina meteorologica è chiaro che la targa lì va apposta dove è stato dove è stato realizzato l'output o chiaramente ogni pari del progetto dipende dall'output realizzato cioè questo è il senso non mettere una targa permanente cioè senza poi collegarla al prodotto qualcosa che è stato realizzato per cui cioè obbligatoria sì per tutti rispetto all'output che viene prodotto però magari su questo faremo anche una riflessione interna per fornire indicazioni anche esempi di applicazione appunto di questa di questa regola in maniera insomma che sia più chiaro e possibile quella che è la nostra interpretazione rispetto al regolamento prevediamo un piccolo investimento in un'area natura 2000 oltre alla targa informativa va aggiunta anche una targa relativa al progetto dobbiamo apporre la targa ovvero il pannello il cartellone all'inizio dell'investimento sì dunque sono necessarie entrambi le targa o i cartelloni in alcuni casi il progetto ha optato per un unico cartellone sul quale ha inserito tutte le informazioni sia quelle informative ma anche quelle relative all'identità visiva ricordiamoci che c'è una tabella un cartellone temporaneo ma c'è anche il cartellone fermamente se si tratta di un cartello lungo un sentiero allora sarebbe opportuno posizionare il cartellone all'inizio del sentiero o alla fine del sentiero i cartelloni il cartellone quindi di natura 2000 deve essere armonizzato con il cartellone o la targa del del programma intere che per questo a questo scopo potete contattare il segretariato congiunto e troviamo una soluzione BL4 o BL5 allora dipende cioè se voi comprate la targa da una persona e poi la fate dare in un posto allora sono servizi esterni dipende da come la fate scusate se si tratta di far fare dall'inizio alla fine e poi ricevete la targa già pronta può essere servizi esterni se invece la acquistate come attrezzatura e poi però la fate fare da qualcuno può essere divisa tra le due non è un grosso problema se sbagliate una di queste o se le mettete come attrezzatura o come servizi esterni però se tendenzialmente questo tipo di costi vanno in BL4 vanno in BL4 vado avanti in italiano se devo replicare la stessa attività in tutti i WP come mi regolo per il budget in uno unpito tutti i costi e l'altro metto i costi a zero innanzitutto il budget non va inserito come il WP ma va inserito a livello di partner quindi voi non dovete indicare il costo all'interno del WP ma il costo lo indica il partner quindi l'attività si svolge lungo tutti i WP poi il costo può metterlo il partner che effettivamente effettuerà quella spesa spero di essere stata chiara e con questa speravo di aver concluso passo in sloveno prossimo Zanneka esplosione chiedo gentilmente di avere alcune indicazioni o un esempio come realizzare un collegamento tra l'attività tra activity output per la comunicazione e i singoli work package in questo caso non presenteremo James e quindi non abbiamo modo di presentare questo tipo di esempi ma se nei vostri work package ci sono delle attività di questo tipo ad esempio ora ci penso ad esempio la realizzazione di un investimento ecco in questa attività dovrete inserire quali sono gli obiettivi illustrare l'investimento presentare le attività e spiegando come verrà realizzato l'investimento dove ci sono gli obiettivi e alla fine c'è una domanda che dice che recita come attuarete la comunicazione in merito a quell'obiettivo e a quel punto lì dovete spiegare quali attività di comunicazione verranno realizzate nell'ambito di tale investimento ad esempio un cartello una presentazione un'inaugurazione e via dicendo e lì a quel punto scrivete che cosa effettuerete e poi aggiungete gli output della vostra attività di comunicazione ad esempio una brochure una targa un cartellone oltre a ciò nella scheda progettuale c'è la sezione 7 dove si può scrivere dettagliatamente che cosa avete intenzione in merito alle attività di comunicazione avete intenzione di realizzare anche lì potete spiegare meglio quali sono le vostre intenzioni poi ciascun partner quando inserisce il proprio budget inserisce anche le spese per la comunicazione ovvero inserisce le spese per la budget line e a quel punto deve tenere in considerazione ciò che in qualità di partner realizzerà in termini di attività di comunicazione vi consiglio di visionare il video dell'evento del 24 ottobre dove Alyosha Sossol spiegava come funziona GEMS sulla piattaforma trovate tutti anche i tutorial e le indicazioni per l'uso di GEMS dove trovate più concretamente come inserire queste informazioni e l'ultima domanda siamo già oltre 5 minuti i target troppo ai quali sono indirizzati gli obiettivi di comunicazione possono essere tutti quelli disponibili nell'application form questa è una domanda tecnica alla quale non saprei rispondere posso provare a chiedere ad Andrea ma non so me la segno casomai vi rispondo se Andrea Grom riesce ad accendere la telecamera e rispondere io interrompo la condivisione i target group e alcune in questione possono essere possiamo mettere tutti i target group si possono nel James ci sono tanti target group da scegliere dalla tendina e si possono scegliere certo quelle che si vogliono e poi si descrive come si vanno raggiungere c'è uno spazio per la descrizione se uno vuole sceglierli tutti li può scegliere certamente bene grazie questa è stata l'ultima domanda e Sandy in chat mi corregge è vero perché non ci sono più targhe provvisorie si mettono i poster di progetto e poi si fa la targa permanente solo per l'investimento quindi chiedo scusa ho dato un'informazione sbagliata ma il concetto è che va fatta insomma e vanno tenuto conto sia la visual identity che i costi ringrazio tutti e passo la parola a Sandy che così conclude il nostro evento vedo che c'è ancora la dottoressa Laura Comelli collegata non so se vuole chiudere salutando dico solo una cosa questo è il primo workshop che ci siamo sentiti di organizzare proprio in vista di altri workshop magari più dettagliati e per darvi una prima infraniatura di quello che è l'impianto comunicativo del nuovo programma che in certi ambiti ricalca il 14-20 in altri c'è ci sono delle novità ma l'importante ripeto è predisporre un progetto che tenga per conto delle regole di comunicazione onde appunto trovarci nello spesevole caso di dover tagliare i costi ripeto se la dottoressa Comelli vuole salutare io comunque vi ringrazio per la per la partecipazione le tutto sarà le registrazioni saranno presenti sul canale youtube a cui vi ricordo di cliccare mi piace o di iscrivervi no perché facebook è l'altro e saranno disponibili come sono disponibili le altre registrazioni e quindi alla prossima ecco occasione che sarà sicuramente promossa sul sito dottoressa Comelli io sono sono rimasta qui ma ovviamente c'è un problema con la telecamera quindi non mi vedete ma ci sono certamente è un evento ti vediamo ti vediamo ah ok certamente è un evento con con moltissimi contenuti tecnici l'avevamo l'avevamo anticipato trovo che le indicazioni che sono state fornite e la manualistica che è disponibile siano contengono veramente tutte le informazioni per poter fare un buon lavoro dal punto di vista di comunicazione è tutto sempre migliorabile non bisogna anche tenere presente che abbiamo operato e questo è sicuramente da dire in tempi rapidissimi proprio per consentire al nuovo programma una una celere implementazione la manualistica è rivedibile i concetti fondamentali non non verranno modificati come come avrete modo di di verificare se avete già utilizzato GEMS su su altri spazi di cooperazione visto che almeno altri tre programmi hanno già lanciato delle call alcuni li hanno già chiusi parlo di transnazionali vi troverete vi troverete a casa GEMS non ha subito grossi adattamenti anche perché non la politica di interact rispetto questo software è quello di intervenire con il numero minore di modifiche possibili quindi vi troverete a vostro agio nella compilazione del form e questo vi consentirà anche di poter replicare questa esperienza sul sistema anche in altri spazi di cooperazione dal punto di vista della comunicazione anche qui le regole che il programma si è dato sono regole comuni in quanto traggono origine tutte dalle indicazioni formulate da interact in collaborazione con la commissione europea credo che gli adempimenti a vostro carico saranno forse inferiori a quelli relativi alla programmazione in corso e niente io sono abbastanza certa che eventi di questo tipo verranno organizzati sicuramente anche l'anno prossimo e ogni qualvolta poi lo staff del segretariato congiunto e dell'autorità di gestione determineranno la necessità di proporre ulteriori ragionamenti insieme io niente vi saluto vi ringrazio per aver partecipato a questo evento un richiamo sì ai contenuti sul nostro sito dove per quello che riguarda GEMS sono pubblicate dei videopillole bilingui molto molto utili per coloro i quali non hanno ancora operato su GEMS grazie ancora e buon lavoro grazie a tutti un ringraziamento speciale sempre alle disponibilissimi interpreti che hanno reso più fluido e sicuramente chiaro questo i messaggi che volevamo voicolare con questo workshop arrivederci a tutti arrivederci